Ciao, sono Edoardo Bove, sono centrocampista della Nazionale Under 21, sono nato e cresciuto a Roma. La passione per il ruolo di centrocampista nasce fin da bambino e tutto il settore giovanile, ho ricoperto un po' tutti i ruoli del centrocampo. Mi piace toccare il maggior numero di palloni possibile e il centrocampista è appunto al centro del gioco. Tre aggettivi con cui mi descriverei come giocatore, combattivo, aggressivo quando serve e un centrocampista dinamico. La tecnologia mi aiuta molto nel mio lavoro, tutti gli allenamenti, tutti i giorni della settimana e anche durante le partite abbiamo un GPS che misura i chilometri che percorriamo ad alta intensità. Poi attraverso la tecnologia possiamo rivedere le partite, le azioni più importanti, cosa sbagliamo, cosa c'è da migliorare. Quindi la tecnologia è stato un passo molto importante anche per la crescita del nostro lavoro. Nella mia vita quotidiana la tecnologia ha un ruolo molto importante naturalmente. Studio attraverso il computer, sto al telefono, comunico con i miei compagni, con i miei amici, la mia famiglia. Notiamo quanto sia importante nel momento in cui viene a mancare, salta la rete o qualcosa. In ritiro anche utilizziamo molto la tecnologia per motivi di svago come può essere una partita alla Playstation ogni tanto oppure motivi anche organizzativi. Quando è arrivata la mia prima convocazione nazionale sono stato molto contento perché è un onore vestire la maglia italiana. Quando senti l'inno pensi solo a cose positive poiché senti di rappresentare un insieme di persone che cercano uno stesso obiettivo, comunque un sentimento comune di una nazione. Quindi è bellissimo sentire l'inno e ti ricordi che hai l'appoggio di moltissime persone dietro.